Al Ferrante di Piedimonte Matese va in scena il recupero del recupero, quel Matese Aprilia che si sarebbe dovuto giocare prima il 16 ottobre poi il 4 novembre. La volta buona coincide con una gara che finisce 0 a 0, non troppo spettacolare, in cui le palle gol migliori forse le hanno gli ospiti. Entrambe le squadre hanno chiesto un calcio di rigore a testa al signor Capriuolo di Bari senza essere accontentate. Passiamo alla cronaca dicendo che il Matese indossa una maglia verde mentre l'Aprilia bianco celeste. La gara di Albanese per i locali dura solo una manciata dei secondi, esattamente 30. Il difensore di casa viene sbilanciato da Olivera dell'Aprilia e si fa male alla spalla, è costretto a lasciare il campo a Langellotti praticamente subito. Al quarto il diagonale di Noman dell'Aprilia è bloccato senza problemi dal neoportiere dei campani Palombo. Al quinto proteste locali a causa di una spinta di Camarà su Ricci per il signor Capriuolo si può giocare. Grossa palla gol laziale, quasi al settimo con la sforbiciata di De Marco alta sopra la traversa, avrebbe potuto fare meglio l'avanti ospite. Il Matese vuole un calcio di rigore all'undicesimo dopo il colpo di petto a proseguire di Ricci. La palla viene agganciata da Abreu che vuole triangolare con il collega ma la palla stessa viene interrotta dal braccio di Wedraogo. Qui il direttore di gara fa giocare fra le proteste dei giocatori di casa. Ancora Aprilia, stavolta è da fermo al diciannovesimo con la punizione distante di Olivera, respinta ma non bloccata da Palombo. Partita combattuta, il Matese ci prova con tutte le sue forze al ventinovesimo troppo debole il tiro del neo arrivato Barone che si spegne sul fondo. Aprilia che fa la partita ma non realizza mentre al trentasettesimo il colpo di testa di Costantino del Matese fa correre i brividi ai giocatori in maglia chiara. Chiede un penalty anche la squadra laziale al quarantunesimo Pollace mette in mezzo e invoca un braccio non regolare da parte di Setola. Ma anche qui l'arbitro fa correre con le immagini di Antonio Trotta. Siamo nella ripresa dove sempre l'Aprilia a tentare con più costanza la via della rete al sesto dal cross di Pollace. La palla passa prima di essere calciata alta da De Marco che fallisce una buona occasione. Una palla goal importante la costruiscono anche i locali al tredicesimo con la girata di Ciotola. Non di molto a lato, partita sempre molto viva ma con il gol che rimane il grande assente. Urbano prova la strada del doppio cambio intorno al quarto d'ora fuori Langellotti che era già subentrato nel primo tempo. E ma sì dentro Barbato e Dilullo quest'ultimo ex agnone Vasto Girardi. Nel Matese si fa male al diciannovesimo Ricci a sostituirlo e Minicucci. Lo stesso ex attaccante dell'agnonese ci prova con un mancino impreciso quando corre il trentaquattresimo. La gara cala notevolmente di tono anche se l'Aprilia dimostra di voler portare nel Lazio i tre punti al trentacinquesimo. Dal fondo Uedraugo mette in mezzo il tapin di Bianchi. Ci vuole un pezzo di bravura di Palombo per tenere la porta casertana preservata. Girandola di cambi negli ospiti con il tecnico Galluzzo che inserisce Bosi, Ferri e Luciani. In luogo di Corelli, De Marco e dell'ex Juve e Lecce Oliveira. Vengono comandati cinque minuti di recupero nei quali succede poco o nulla. E la squadra di Urbano ad avere un'ultima chance esattamente al novantacinquesimo sui piedi di Minicucci. Che calcia a lato da posizione defilata. E' uno 0-0 che potrebbe star bene all'Aprilia dopo 40 giorni senza calcio a causa dei numerosi contagiati in rosa. Il Matese si prende il pareggio e pensa al futuro. Fiduciosa anche in un miglioramento nel peso specifico offensivo.